Bentornati al nostro appuntamento qui su Rete8, oggi parliamo del DURC, DURC è un acronimo che vuol dire documento unico di regolarità contributiva e parliamo di documento unico proprio perché come vediamo nella slide abbiamo tre soggetti che vengono interrogati, cioè la regolarità contributiva sia presso l'INPS ma anche presso l'INAIL e le casse edili ovviamente solo per gli operatori del settore dell'edilizia. Come funziona materialmente il DURC? Intanto chi lo deve chiedere? Non è certo il singolo imprenditore che deve avere il DURC e portarlo dai vari soggetti, ma devono essere i soggetti stessi ad andare a richiedere l'attestazione, quindi le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti aggiudicatrici di appalti, le stazioni appaltanti, i concessionari e gestori di pubblici servizi. Sostanzialmente ovviamente anche il singolo imprenditore o lavoratore autonomo può richiedere il DURC nel momento in cui richiede questo DURC ha la certezza che il DURC sia positivo per tutti gli altri soggetti che lo interrogano. Come funziona? Vediamo come funziona il DURC. Innanzitutto è una verifica che avviene esclusivamente in modalità telematica. Nel momento in cui viene rilasciato il DURC positivo questo è valido 120 giorni, quindi la validità del DURC è molto lunga, per cui in questi 120 giorni tutti quelli che richiedono il DURC ottengono automaticamente la risposta positiva. Quindi la risposta è quasi immediata sia per le pubbliche amministrazioni che per i soggetti che hanno bisogno di questo documento. Cosa succede invece se il DURC ha qualche inadempienza, mancato pagamento? Non esce quindi questa immediata positività del DURC ma parte in automatico tramite i nostri sistemi una comunicazione con un invito a regolarizzare che viene inviato non a chi ha richiesto il DURC ma al soggetto interessato. Quindi il soggetto interessato viene posto a conoscenza del fatto che c'è qualche problema sulla sua posizione contributiva e viene invitato in un termine di 15 giorni a sistemare quelle che sono le regolarità, che possono essere mancati i pagamenti ma anche una mancanza di una dichiarazione, quindi non è possibile accertare se ha pagato correttamente i contributi perché ci manca la dichiarazione di un mese. Quindi in questo termine di 15 giorni si può effettuare la regolarizzazione. Ricordo ai nostri ascoltatori autonomi e imprenditori che in caso di inadempienza, quindi mancato pagamento, è possibile sanare la cosa anche presentando la richiesta di dilazione. Quindi si avrà il DURC positivo anche se si dilaziona quello che è il debito in quel momento e si paga in 24 rate mensili. Quindi ulteriore facilitazione e agevolazione per una situazione in cui l'imprenditore non ha la disponibilità delle somme che gli vengono richieste. Come si fa la domanda di DURC? Innanzitutto abbiamo detto che è assolutamente e solo online. Quindi in caso di erogazione e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, nell'ambito di procedure d'appalto e per l'attestazione SOA, sanno i nostri amici imprenditori di che cosa si tratta, abbiamo la necessità di effettuare appunto la richiesta di DURC. Come si fa la richiesta di DURC? L'abbiamo detto, appunto è solo online, vediamo la slide successiva. Lo sportello unico presidenziale non è solo INPS ma riguarda più soggetti, quantomeno l'INPS e l'INAIL e quindi attraverso le credenziali che si hanno nello sportello unico previdenziale vengono interrogate tutti e tre i soggetti che abbiamo detto e il DURC riguarda l'intera posizione aziendale. Vi ringrazio per averci ascoltato su un argomento anche particolarmente tecnico e ci vediamo la prossima puntata.